quindi annusando da questa parte cioè dal lato passeggero il profumo di benzina non si sente mentre invece io lo so che voi non lo potete sentire però ecco invece di qua si sente il profumo di benzina che non chiamo puzza perché il profumo mi piace però lì si sente e di là invece no sarà non vorrei dire ma evapora quindi consuma si cerca le carote sono praticamente tutti uguali questa se ne tocca tutte quante e si trova la carota più bella guarda che faccia sono qui al kaufland ora probabilmente questi mi vedranno però era giusto per fare il commento allora visto la coppia che c'è lì i due anziani che sono lì lei davanti prima erano nella zona del burro sono stati lì dieci minuti nel burro a fare il loro giro non hanno preso nulla adesso sono altri dieci minuti che sono qua lui di dietro lui di dietro col carrello e lei davanti ecco e adesso dopo dieci minuti si è presa il pacchettino e poi vanno avanti e lui che segue di dietro e lui che segue di dietro adesso lei passa dall'altra parte capito ok noi facciamo finta di niente ecco lui di dietro lei che guarda lui servo di dietro col carrello lei fa la sua mano nella mano controlla misura pesa ecco forse prende qualche cosa ma quello no ma aspetta che guarda niente no ecco prendo questo no quello lì no dai andiamo per due insomma questa sarà la mia fine che devi dire non dico che era entrato con il sole però non è che nevicava così guarda siamo sotto la neve qua fanno il pollo arrosto ottimo si sente già il profumo oh cazzo gli spaghetti brutto è già da un po che si sente non so come mai